al 31 marzo 2023 il mio patrimonio ammonta all'equivalente di 444.291 dollari e sì con questa puntata di aggiornamento sul mio patrimonio e sui miei investimenti voglio fare un po' qualcosa di diverso perché alla fine dallo scorso mese i miei portafogli non si sono modificati di chissà cosa siamo semplicemente passati da un patrimonio di 400.000 dollari a uno di 444.000 dollari e comunque nel corso di questo video vi spiego da dove vengono fuori quei 44.000 dollari però dato che la struttura non è cambiata di chissà cosa mi è venuta l'idea di chiedervi tramite due sondaggi su instagram tutte le domande che aveste su quello che è il mio portafoglio su quello che è il mio patrimonio perciò oggi in questa puntata della rubrica mensile dei miei investimenti rispondo per la prima volta a tutte le vostre domande per chi vuole un riepilogo dettagliato del mio patrimonio vi faccio scorrere in questo momento tutto l'excel dove tengo traccia dei miei investimenti del mio patrimonio e se voleste una guida dettagliata a tutte le posizioni del mio portafoglio andatevi a riprendere l'aggiornamento dello scorso mese ve lo lascio qui ve lo lascio sotto in descrizione e come sempre qui sotto in descrizione trovate una valanga di approfondimenti quindi andateci sempre a dare un occhio detto questo prima di iniziare vi ricordo come sempre che io non sono consulente finanziario quindi prima di spostare qualsiasi cosa fate le vostre opportune considerazioni io porto avanti questa rubrica mensile dal 2018 per cercare di condividere quello che sto imparando e soprattutto sempre per avere feedback costruttivi e discussioni costruttive sempre qui sotto nei commenti ultimissima cosa prima di iniziare qui in descrizione vi lascio l'indice con tutte le domande così se siete interessati a qualsiasi cosa potete saltare da una parte all'altra del video anche se ovviamente vi consiglio di guardarlo tutto perché alcune domande prendono contesto da altre domande avvenute prima quindi insomma fate voi comunque avete un indice la prima in assoluto che si ripete in 47 versioni è condividerai il foglio excel come sapete tengo traccia di tutto il mio patrimonio su questo bellissimo foglio excel che sto ogni mese migliorando abbellendo ritoccando sicuramente lo condividerò così potrete andarlo a vedere quotidianamente datemi soltanto ancora un po di tempo perché quando lo condividerò voglio esserne fiero e voglio che sia perfetto preciso al millimetro perciò quello che posso dirvi è per rimanere quotidianamente aggiornati su tutte le cose che faccio iscrivetevi alla mia newsletter la lascio qui sotto in descrizione e appena il foglio sarà disponibile ve lo condivido subito secondo tema e qui ho raggruppato un po di domande come ha fatto a salire di 40 mila dollari in un mese al di là del patrimonio i soldi per vivere da dove li estrapoli ciao riccardo secondo me in questo video manca una parte molto importante che è il tuo stipendio buona giornata a quanto ammontano i tuoi guadagni mensili e quante spese personali al mese mostra anche quello che spendi al mese per vivere il tutto si può riassumere con queste due domande income punto di domanda spiega meglio le entrate del mese e le uscite allora ovviamente il motivo per cui il mio patrimonio aumentato di 44 mila dollari è il fatto che punto 1 durante il mese di marzo generalmente i mercati hanno avuto una risposta positiva punto 2 ovviamente dato che condivido tutto il mio patrimonio liquidità compresa quindi letteralmente tutto anche quanti soldi ho in banca nell'ultimo mese come anche nei prossimi mesi mi auguro continuerò a fatturare e guadagnare e se mi interessa la mia posizione fiscale in questo momento a dubai è da libero professionista comunque per rispondere direttamente alla vostra domanda io mediamente ogni mese guadagno circa 30 mila dollari questa e va precisato così potete capire anche meglio in futuro come se vuole il mio patrimonio è una cifra media ci sono mesi come quello di dicembre gennaio dove guadagno anche 70 80 mila dollari al mese e mesi un po più piatti come magari con gli estivi dove fatturo e incasso 10 mila dollari comunque la media degli ultimi mesi è circa 30 mila dollari al mese questa è la parte del guadagno mentre per quel che riguarda le spese gli ultimi tre mesi sono stati parecchio dispendiosi perché ho viaggiato veramente tanto facciamo così giusto per curiosità vi do anche il dettaglio il mese di gennaio 2023 ho speso 13.352,75 euro febbraio 10.332,25 marzo 9.220,67 queste spese comprendono tutta la mia vita l'unica cosa esclusa sono i tre collaboratori che ho che vanno on top a queste spese e per privacy dato che si tratta di una cifra relativa a persone terze non mi sento di condividervela io in ogni caso gli ultimi tre mesi ho speso veramente veramente tanto anche perché come avete visto dal canale ho viaggiato tantissimo però se devo andare a fare una stima o una media prendendo in esame gli ultimi 12 mesi io spendo per tutto circa 8.000 euro al mese a cui poi vanno aggiunti i compensi ai miei collaboratori sottolineo che questa è una stima al 31 marzo 2023 in futuro ovviamente cercherò di aumentare i margini cercando di alzare i guadagni e tagliare le spese ovviamente dove ha senso farlo andando avanti con le domande ne ho raggruppate un po per quel che riguarda il tema con quanto sei partito quindi con quanti soldi sei partito per arrivare ad una cifra del genere quanti anni fa iniziato e con quanto come sei arrivato ad avere questo patrimonio da che capitale sei partito e in quanto tempo hai creato 400.000 dollari per quel che riguarda la risposta con quanto sei partito penso che possa essere 2 3.000 dollari e questo patrimonio non deriva dall'investimento deriva principalmente da quello che è il mio lavoro quindi da quello che io fatturo da quello che io genero con le mie prestazioni vi faccio un piccolo escursus per spiegare meglio dico inizialmente 2 3.000 euro perché con quei soldi risparmiati da paghette regali mance dei nonni insomma un tesoretto messo insieme in 19 anni di vita al posto di prendermi un'auto usata ho deciso di andare a fare un'esperienza in australia dove ho lavorato e quei 2 3.000 euro mi sono serviti per arrivare in australia più il visto per entrarci lì ho lavorato 8 mesi mettendo via in quegli 8 mesi circa 8.000 euro con quei soldi ho provato due cose amazon fba e il canale youtube questo che state vedendo ora amazon fba dopo essere partito alla grande non mi è andato benissimo e ho anche condiviso tutto il percorso in una serie di video che avevo fatto tempo fa mentre per quel che riguarda il canale youtube penso sia stato l'investimento migliore della mia vita perché dei 450 mila dollari del mio patrimonio attuale circa 380 sono soldi che io sono riuscito a mettere via con la mia attività da influencer youtuber e tutte le varie sfaccettature che questa attività e che comunque ho condiviso in tantissimi video e vi ho fatto vedere in tantissimi video quanto io guadagnassi e quanto io stia guadagnando e probabilmente anche di più tipo 400 mila dollari sono relativi a quello che io ho fatturato o quella che è la mia attività da libero professionista in base a come la vogliate chiamare ma quella è una definizione insomma circa 400 mila sono i soldi che ho messo via guadagnando fatturando per quel che riguarda il resto circa 30 mila sono profitti relativi ai miei vecchi portafogli cripto che comunque vi ho condiviso nel tempo all'interno di questa rubrica mensile mentre tutto il resto pochissimo circa 10 mila dollari sono profitti con gli investimenti aperti che vedete all'interno di questo foglio excel non sono tanti ma perlomeno nonostante gli ultimi due anni veramente schifosi per i mercati finanziari comunque sono in profitto sfortunatamente o fortunatamente da un altro punto di vista ho iniziato ad investire la maggior parte dei miei soldi in questo periodo e nonostante tutto è un ottimo feedback che in questo momento comunque sia in positivo ed il positivo alla fine è dovuto principalmente ai portafogli che io avevo iniziato nel 2020 con la prima crisi covid perché se ora andiamo a prendere e vedere il mio portafoglio più grande che in questo momento è su interactive brokers che io ho iniziato nel 2021 in quel portafoglio preso singolarmente sono sotto di 20 mila dollari per il semplice motivo che io ho accumulato mentre il mercato scendeva però ovviamente come dico in tutti i miei video queste sono cifre che dobbiamo andare a vedere tra dieci anni dobbiamo andare ad analizzare a lungo termine non devo e non dobbiamo per come la penso io tirare le conclusioni ora anche perché veniamo da due anni non belli e probabilmente anche i prossimi 12 mesi non saranno belli quindi potrebbe tranquillamente essere possibile che io vada in negativo per un periodo di tempo però un feedback che vorrei che prendeste da questa riflessione è che se si vuole generare ricchezza il modo più veloce sicuramente non sono gli investimenti ma è il lavoro che può essere il lavoro da dipendente o comunque creazione di un'attività imprenditoriale andando avanti con le domande qui ce ne sono un paio un pelo più tecniche la prima e i miei tf nell'ultimo anno ha perso quasi il 10 per cento come mai sei inattivo in realtà non sono inattivo però c'è una curiosità su queste tf queste tf ce l'ho su due brokers interactive brokers e trading 212 su interactive brokers è amy acquistato in dollari sull'undown stock exchange su trading 212 la sigla è amy perché acquistato sempre sull'undown stock exchange però in sterline su interactive brokers sono in perdita del meno 10 per cento proprio perché lì ho iniziato come dicevo prima ad investire tra il 2021 e 2022 quindi seguo anch'io il mercato però comunque accumulandolo su interactive brokers non ho la perdita completa perché comunque sto mediando il prezzo a ribasso mentre per quel che riguarda trading 212 nel particolare io ho emim nel mio portafoglio di trading 212 aisa su quel portafoglio ho iniziato ad investirci nel 2020 e ho accumulato per il 2020 e il 2021 quando ero residente nel regno unito e all'epoca post covid ho accumulato quelle tf quando comunque era più basso rispetto all'accumulo che ho fatto poi 2021 2022 su interactive brokers perciò su quel portafoglio ho una media di prezzo per emim più bassa e quindi sono in negativo soltanto del meno 5 per cento e dato che stiamo parlando dei miei portafogli su trading 212 colgo l'occasione di ricordarvi che qui sotto in descrizione trovate il mio link invito all'amico per trading 212 tramite il quale se aprite un conto con loro e depositate dei soldi in quel conto potete ottenere come bonus un'azione che valga fino a 100 euro io personalmente come vedete utilizzo molto il loro servizio infatti come vedete all'interno di trading 212 ho circa 140 mila dollari e probabilmente la funzione che mi piace di più e ci ho anche fatto un video è quella che ti permette di creare torte tematiche con asset a tua scelta cosa che comunque sto portando avanti perché sto portando avanti una torta tecnologica vi lascio qui in alto a sinistra destra il video andate ad approfondire se vi interessa e vi ricordo che trovate il link in descrizione se volete partecipare a questa promozione e ottenere questa azione bonus andando avanti perché usd e non euro sì come potete vedere la valuta principale con cui misuro il mio patrimonio è il dollaro perché diciamo è la valuta universale della finanza e soprattutto perché viaggiando in giro per il mondo e avendo a che fare con tantissime valute se dobbiamo andare a vedere qual è la valuta più utilizzata nel mondo e con più scambi è il dollaro quindi prendo quella come principale però misura il mio patrimonio in tante altre valute infatti qui sotto potete vedere euro sterlina dirham rubli bitcoin e tirium ed è interessante vedere come in questo momento il mondo cripto sta salendo tantissimo e quindi in bitcoin e in etirium nonostante il mio patrimonio salga e aumenti in dollari in bitcoin ed etirium si sta abbassando perché a dicembre 2022 aveva un pari valore di 22,35 bitcoin in questo momento di 15,60 perché il bitcoin ha preso tantissimo valore negli ultimi quattro mesi poi ha avuto tantissime domande e lo voglio specificare giusto la mole di domande relative al servizio di trade republic proprio perché da pochissimo ho fatto un video in collaborazione con loro e con loro abbiamo creato in collaborazione il piano d'accumulo di mio fratello che se volete andare ad approfondire lo avevo creato l'anno scorso in questo video e ha fatto la revisione di questo piano d'accumulo in quest'altro video a mio modesto parere magari anche di parte perché ci collaboro servizio ottimo app semplicissima commissioni basse io purtroppo non lo posso utilizzare perché in questo momento sono residente negli emirati arabi e purtroppo non posso aprire un conto su trade republic proprio perché per residenti negli emirati arabi i loro servizi non sono disponibili comunque andatevi a riprendere quei due video che ho fatto con mio fratello se dovesse interessare se voleste approfondire e andando avanti mantenendo sempre lo stesso argomento ci sarà un momento in cui prenderai questi soldi e li metterai in un'unica banca no la risposta secca è no per quel che riguarda la liquidità o soldi cash liquidi non posizioni in qualche azione in qualsiasi altra cosa in 15 servizi finanziari differenti da broker banche digital banks exchange conti di investimento insomma ne ho tantissimi vari però alla fine se andate a vedere la maggior parte dei miei soldi sta in due conti interactive brokers e trading 212 dove se andiamo a fare la somma ho circa 270 mila dollari dopodiché andando avanti 22 mila dollari nutmeg 20 mila dollari circa money farm 9 mila dollari bondora 8.500 evenfi 5.500 re crowd 11.600 kx quasi 11.000 binance e posizioni minori in altri conti oltre alla liquidità che vi ho detto prima ho tantissimi conti correnti in giro per tutto il mondo in giro per molte banche in giro per molti servizi perché banalmente diversificazione se mettessi tutto in un'unica banca magari iper assicurata anche dove è tutto garantito tra molte virgolette se quella banca comunque dovesse andare a fallire anche se è tutto garantito magari io rimango senza i miei soldi per un mese e senza tutti i miei soldi per un mese non pago i collaboratori non posso viaggiare e creare contenuti e l'unica cosa da fare in quella situazione è probabilmente o andare in russia se ho qualche soldo tipo cash con cui posso pagarmi il biglietto e sopravvivere da mascia o in alternativa andare andare dai miei genitori a piangere o cercare carità dai miei fratelli probabilmente quindi la risposta è no non avrò mai tutto in un unico asset anzi addirittura in questo momento sto valutando di comprare più orologi e comprare più oro fisico così nel momento in cui dovesse esplodere tutto almeno ho degli orologi da rivendermi e ho dell'oro fisico da rivendermi insomma l'ottica è sempre diversificazione diversificazione e diversificazione poi come dicevo all'inizio comunque i miei due conti principali con cui faccio il maggior numero di operazioni con cui ho al maggior numero di soldi 270 mila dollari più del 60 per cento del mio patrimonio è su trading 12 e interactive brokers se dobbiamo fare un conto poi ci sono un po' di domande relative alla mia storia se volete avere il dettaglio di tutta la mia storia comunque lo trovate su youtube dal 2018 io sono classe 1998 quindi non c'è tutto quando ho iniziato a tenere traccia delle tue entrate uscite e perché ho iniziato a tenere traccia delle mie entrate ed uscite nel 2017 quando ho fatto il mio primo viaggio in aereo e a quell'epoca andavamo a londra ed è bellissimo perché ce l'ho qui davanti erano fogli su note di apple dove prendevo mettevo quanto speso dove quanto speso dove 5 sterline 99 mcdonald 30 sterline ostello adesso ci faccio uno screenshot ve lo metto sopra bellissimo la risposta è dal 2017 solo per i viaggi e poi dal 2018 quando sono andato in australia per qualsiasi cosa a che età ha iniziato ad accumulare di investire qui si può già trovare tutto perché c'è direttamente su youtube se andate a cercare i miei investimenti riccardo zanetti filtrate per playlist trovate la playlist dei miei investimenti la stessa playlist che state guardando ora a distanza di anni ed il primo video è del 25 ottobre 2018 il mese esatto in cui ho iniziato ad investire ho iniziato a condividere la cosa perciò per rispondere circa quattro anni e mezzo mamma mia ed ero imbarazzante al video qua davanti nella mia bellissima cameretta all'età di 20 anni quando sei tornato dall'australia non avevi nulla è nato tutto da youtube a questa domanda ho già risposto prima comunque quando sono tornato dall'australia avevo messo via circa 8000 euro più o meno soldi che poi mi sono stati utili per pagare in parte l'università che era io la vedevo come percorso alternativo giusto per non focalizzarmi soltanto su un percorso diversificavo le cose che stavo facendo in modo tale che se una cosa non andava bene andava bene l'altra e quando sono tornato dall'australia ho iniziato amazon fba ho iniziato il canale youtube e ho iniziato l'università oltre ad aver fatto alcuni colloqui tramite i quali poi mi avevano assunto però ho deciso di perseguire soltanto gli altri tre percorsi e poi man mano col tempo ho lasciato anche l'università e ho chiuso anche il mio profilo su amazon fba perciò in questo momento sto portando avanti le mie attività da content creator partite con youtube vorrei iniziare ad investire ma non so la somma minima e dove la somma minima in questo momento con tutti i nuovi servizi finanziari che ci sono ad ora non esiste potresti addirittura partire ad investire un euro al giorno un euro al mese non posso dire consiglierei perché non sono un consulente finanziario però la cosa che io farei è prima di tutto capisci qual è il tuo obiettivo e soprattutto fai in modo che questo obiettivo abbia un senso e capisci quello che stai facendo perché tante persone pensano il risparmiare poi investire sia la strategia magica per diventare ricchi no io quando risparmi investo non sto cercando di diventare ricco sto cercando di salvaguardare il mio patrimonio e soprattutto rendere il mio tempo più libero possibile quindi liberarmi da un certo punto di vista però vabbè questo è un discorso più ampio che non voglio stare a fare qui ora un video che ho fatto che ti consiglierei di vedere è proprio quello dove vado a creare il piano d'accumulo per mio fratello giovanni come regalo per i suoi 18 anni lo linko in descrizione se voleste andarlo a riprendere hai un cuscinetto di salvataggio in caso dovesse andare storto qualcosa in questo momento oltre a tutto il patrimonio investito ho 22 mila dollari di liquidità circa che bene o male coprono tre mesi della mia vita però bisogna dire anche che per i prossimi 11 mesi io ho già pagato un anno di affitto a dubai quindi in qualunque caso una casa un tetto ce l'ho in ogni caso più questi 22 mila dollari in realtà quello che devo fare nel prossimo futuro è aumentare questa parte di liquidità proprio perché voglio essere pronta nel caso in cui ci siano opportunità da qui in futuro mi sento di essere poco liquido in questo momento infatti se andiamo a prendere la mia torta ad ora la liquidità occupa il 5,1 per cento vorrei portarla almeno al 7 8 per cento del mio patrimonio idealmente circa 40 mila dollari va anche fatto notare va detto che gli strumenti dove investo sono strumenti liquidi quindi nel momento in cui dovesse succedere un cataclisma o dovessi aver bisogno di soldi io posso da investire non è mai la cosa ideale perché quando vai ad investire devi rispettare un certo piano però nel caso in cui dovessi aver bisogno di 200 mila dollari perché che cavolo ne so mi spacco la gamba in america e non sono assicurato quando vado negli stati uniti e ne ho bisogno disinvesto e amen però ragazzi e mi tocco è una possibilità abbastanza distante anche perché quando sono andato negli stati uniti mi sono assicurato nel finale ci sono un po di domande relative al futuro hai pianificato di cambiare l'allocazione del patrimonio nel breve allora in questo momento ho un 35,4 per cento etf un 25,2 per cento stock un 9,4 per cento robo advisor un 5,2 per cento peer to peer lending 8,6 per cento cripto un 7,6 per cento private equity un 5,1 per cento cash e un 3,5 per cento di investimenti alternativi in questo momento quello che ho programmato è di ridurre la parte di robo advisor e di ridurre la parte di stock singole per andare ad aumentare la liquidità come vi dicevo prima e la parte in etf e questa cosa si realizzerà principalmente dal mio reddito guadagnando ogni mese avrò più soldi e al posto di investire in stock robo advisor e quant'altro investirò in etf e terrò dei soldi da parte piuttosto che investire in altre cose e probabilmente ed è una cosa di cui abbiamo già parlato lo scorso mese anche la parte cripto aumenterà un po proprio perché in questo momento sto accumulando 4.400 dollari al mese 85 per cento bitcoin 15 per cento eterium quindi teoricamente prossimamente dovreste vedere la parte robo advisor e stocks stringersi un pochino per dare spazio ad altro interessante obiettivi di patrimonio futuro ti stimo un sacco innanzitutto grazie possiamo fare una stima perché come vi dicevo mensilmente riesco a mettere da parte circa 20 mila dollari facendo una sottrazione tra quanto guadagno e quanto spendo a fine anno se le cose vanno bene se i mercati rimangono fermi senza cadere o senza decollare dovrei stare attorno ai 600 700 mila dollari poi se ci sono crolli potremmo trovarci qui con 500 tranquillamente invece per quel che riguarda idealmente il mio obiettivo è di riuscire ad arrivare ad un patrimonio di circa 2 milioni prima dei 30 anni e questo lo vedremo insieme se vi iscrivete al canale vedremo cosa succede da qui in avanti altra domanda in termini di patrimonio che obiettivi hai che cifre vuoi raggiungere in due anni e in dieci anni come vi dicevo il target principale è raggiungere i 2 milioni prima dei 30 anni se quello che io riesco a mettere da parte in questo momento non varia anche se ovviamente io sto cercando di aumentare questa cifra ogni mese però rimaniamo conservativi ovviamente conservativi non do lo scenario negativo perché potrebbe anche esserci uno scenario negativo dove io tra tre anni guadagno meno di quello che sto guadagnando ora però a quel punto lo rivedremo insieme secondo stima se io continuo a guadagnare lo stesso prima dei 30 anni dovrei arrivare a circa tra 1 e 7 e 2 però vediamo vediamo tra quanto pensi di diventare milionario sempre secondo queste stime dovrei diventare milionario che fa abbastanza ridere come cosa però vabbè siamo trasparenti parliamo di soldi la parola è milionario usiamola dovrei diventare milionario alla fine dell'anno prossimo a dicembre del 2024 e domanda che mi porta a fare la riflessione che comunque avrei voluto fare pensi di avviare altre attività progetti oppure ti concentrerai su ciò che già fai sì mi concentrerò su quello che già faccio però ovviamente ed è cosa che già sto valutando che vedrete nel prossimo futuro sempre se continuerete a seguire le mie avventure dato che come dicevo già all'inizio di questo video il mio patrimonio è principalmente dovuto a quello che io ho generato con il mio lavoro se io voglio cercare di creare ricchezza o aumentare il mio patrimonio più velocemente quello che devo fare è non tanto preoccuparmi dei mercati a breve termine ma più che altro concentrarmi su creare attività che possano produrre reddito cosa che sto facendo ma ma vedrete spero che questo aggiornamento alternativo sui miei investimenti vi sia piaciuto ditemelo nei commenti e se così fosse lo possiamo riproporre magari ogni sei mesi facciamo una puntata con le vostre domande se avete altre domande lasciatemele qui sotto nei commenti che magari possono essere spunto per futuri video lasciate un mi piace per supportare tutta questa rubrica dove io spero di sbandierare il tabù sul denaro condividendo quello che io faccio iscrivetevi se non volete perdere tutte le mie future avventure e noi ci vediamo nella prossima avventura ciao a tutti ragazzi